Ciao a tutti! Molte persone al mondo giurano e spergiurano di aver ricevuto telefonate da parenti defunti, quindi diciamo che queste storie molto curiose ed interessanti ci fanno sperare in questo legame tra il nostro mondo fisico e quello che noi oggi chiamiamo al di là. Ma che cosa c'è di vero in tutto questo? Si tratta forse di suggestione o c'è davvero qualcosa che va oltre qualsiasi spiegazione razionale. Ho deciso oggi di condividere con voi delle storie davvero interessanti di persone che hanno ricevuto telefonate dai morti, quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di cominciare subito. Correva l'anno 1969 e il protagonista del primo racconto è un uomo di nome Karl Uphoff. Karl, un artista di musica rock del New Jersey, all'età di 18 anni ricevette una telefonata da sua nonna in seguito alla sua dipartita. All'epoca dei fatti Karl aveva appunto 18 anni e dovete sapere che non era assolutamente un ragazzo affascinato dal mondo paranormale, anzi a lui quelle tematiche proprio non interessavano. Karl aveva avuto sempre un legame speciale con sua nonna, si volevano tantissimo bene. La donna era sorda e molto spesso quando Karl usciva con i suoi amici lei chiamava anche gli amici del nipote per chiedere dove fosse Karl e anche se sapeva che non avrebbe potuto udire la risposta dei ragazzi a causa della sua sordità aggiungeva sempre di dire a Karl di tornare subito a casa. Tant'è che gli amici di Karl cominciarono anche ad infastidirsi a causa delle chiamate della nonna, alcuni cominciarono anche a chiedere a Karl ma perché cavolo hai dato il nostro numero a tua nonna, ci chiama ogni cinque minuti, non si può stare mai tranquilli, ma nonostante questo, ecco Karl voleva tantissimo bene a sua nonna e la donna semplicemente si preoccupava per per suo nipote, quindi avevano un legame davvero molto molto profondo. Purtroppo un giorno la nonna di Karl morì e Karl sprofondò nella tristezza più totale, quella era una figura di riferimento nella sua vita. Una sera del 1969 mentre si trovava insieme ai suoi amici nel seminterrato di uno di loro sempre lì nel New Jersey arriva la mamma di uno degli amici di Karl e dice a Karl che c'è qualcuno al telefono che vorrebbe parlare con lui. Quando Karl si avvicinò al telefono udì la voce di sua nonna ma prima che potesse chiederle qualsiasi cosa la donna riattaccò. A questa seguirono tante altre telefonate e pensate che ogni volta che Karl chiedeva a sua nonna come avesse fatto a mettersi in contatto con lui la linea si interrompeva sempre. Quindi Karl giura e spergiura di aver udito la voce di sua nonna ed è curioso anche questo dettaglio del chiedere e del non ricevere risposta da parte di sua nonna è come se noi che ci troviamo ancora in questo mondo fisico non possiamo accedere ad un determinato tipo di sapere. Qui mi viene in mente anche la storia che mi ha raccontato mia nonna e che io vi ho raccontato sul secondo canale riguardo alla tavola Ouija. Mia nonna quando ha partecipato ad una seduta di tavola Ouija beh loro hanno chiesto a questo spirito com'è lì dove adesso vi trovate e questo spirito ha fatto capire che non poteva dire nulla, che non si poteva assolutamente dire nulla riguardo al luogo in cui appunto si trovavano. Questa situazione ritornando a Karl andò avanti per un paio di settimane quando ad un certo punto Karl cominciò a non ricevere più le chiamate di sua nonna ma lui ci tiene a specificare che anche se non riceveva più le chiamate della donna sentiva sempre vicina la sua presenza. Questa storia è davvero bellissima e ve l'ho voluta raccontare ci sono tantissime storie come questa su vari forum, su vari siti dove proprio le persone raccontano quello che è accaduto e voi che cosa ne pensate di questo primo racconto? Troviamo una storia simile a quella di Karl anche in Inghilterra, precisamente a Wilmslow. Siamo nel 1977 quando una giovane donna di nome Mary Meredith ha ricevuto delle telefonate a casa sua da parte di sua cugina Shirley. Dovete sapere che la donna quando ha sentito la voce di sua cugina dall'altro capo del telefono è rimasta completamente senza parole perché pensate che Mary proprio quel giorno soltanto pochi minuti prima aveva ricevuto la chiamata di sua zia che la informava della dipartita di sua cugina Shirley proprio a causa di un incidente automobilistico quindi come poteva essere? Mary sapeva che sua cugina era morta eppure quella era la sua voce la stava chiamando la donna le stava parlando e anche nel caso di Mary anche nel caso di questo breve racconto come nel caso di Karl nel momento in cui Mary ha cominciato a porre dei quesiti a sua cugina ancora una volta la linea si è completamente interrotta. E ancora nel 1995 un medium di nome James Byrne fu invitato in una trasmissione radio a Liverpool in Inghilterra. Dovete sapere che James diceva di essere un sensitivo, un uomo che aveva la capacità di connettersi con la dimensione dove si pensa ci siano appunto tutte le persone che hanno abbandonato questo mondo fisico, tutte le loro anime ed era anche molto famoso proprio in questa trasmissione radio. Che cosa accadeva? Che le persone proprio nel momento della sua ospitata chiamavano al centralino della trasmissione radio per mettersi in contatto con lui per chiedere a lui delle informazioni riguardo a dei parenti che queste persone avevano insomma perduto, chi per malattia, chi in incidenti stradali eccetera eccetera. E quest'uomo molto spesso riferiva a queste persone dei messaggi o comunque delle cose che soltanto loro potevano conoscere. E proprio quella sera una donna che in questa storia viene chiamata la signora Wilson decise anche lei di chiamare al centralino perché voleva essere messa in contatto proprio con Byrne. La donna era letteralmente disperata perché un anno prima aveva purtroppo perso suo nonno a cui era davvero tanto legata e voleva semplicemente chiedere a Byrne se ci fosse qualche messaggio di suo nonno per lei. Ma quella sera la donna non riuscì a mettersi in contatto con Byrne perché la linea del centralino era completamente intasata vi ho detto chiamavano tantissime persone per mettersi in contatto con questo sensitivo. Nonostante questo la signora Wilson anche se non aveva potuto parlare con James con questo sensitivo decise comunque di restare lì e di ascoltare questa trasmissione radio per conoscere anche le storie delle altre persone. Ma intorno alle 10 di quella sera mentre la donna si stava sistemando sul divano per guardare il notiziario ricevette una telefonata e quando rispose al telefono una voce familiare dall'altro lato le diceva queste parole. Amore sto bene qui è fantastico e sono insieme a tua nonna e a tutte le altre persone fantastiche che ho conosciuto e che sono morte come me. La signora Wilson era completamente sbalordita perché quella voce era la voce di suo nonno. La donna cominciò a non sentire più le gambe stava addirittura per svenire dallo stupore e a differenza delle due storie precedenti a quanto pare l'ha telefonata in questo caso andò avanti perché in credula ad un certo punto la signora Wilson cominciò a chiedere nonno ma sei davvero tu e l'uomo le rispose sì amore ma adesso ascoltami smettila di vivere nel passato e nei cattivi ricordi vai avanti sono qui e ti guardo ma adesso devo andare saluta con tanto amore i bambini da parte mia ciao. A quelle parole la signora Wilson era così scossa che cominciò a pensare che qualcuno le avesse voluto fare un brutto scherzo anche se quella era la voce di suo nonno ma cerchiamo di metterci nei panni di questa signora che riceve la chiamata di suo nonno morto un anno prima chiunque rimarrebbe lì senza parole e giustamente lei ha cominciato a pensare che potesse essere anche uno scherzo anche se la voce di suo nonno era quella era effettivamente la voce di suo nonno però dallo shock uno comincia a pensarle tutte anche perché ragazzi diciamocelo ci sono tantissime persone al mondo che non hanno nulla da fare nella loro vita sono molto spesso persone tristi che si mettono anche a fare scherzi simili è perché ci sono tantissimi casi che si possono anche leggere sul web di persone che hanno perso dei figli e poi dal cellulare del figlio morto cominciavano a ricevere delle chiamate e quelli magari erano semplicemente amici ma chiamiamoli amici di questo ragazzo di questa ragazza che chiamavano i genitori e facevano credere che il figlio in qualche modo avesse azionato aperto la chiamata insomma ci sono tantissime persone davvero davvero molto cattive e prive di empatia quindi non ci deve stupire la cosa la signora wilson quindi comincia a pensare che fosse semplicemente lo scherzo di di qualcuno per questo motivo chiamò qui è scritto al 1471 che a quanto pare ho letto è un numero di servizio e qui all'operatrice cominciò a chiedere il numero del chiamante cioè della persona che l'aveva chiamata qualche minuto prima probabilmente la signora wilson aveva spiegato il tutto ora non vi so dire non è specificato ma quello che so è che qui è riportato e che dall'altra parte del telefono dissero alla signora wilson che era come se la chiamata fosse partita dal suo stesso telefono quindi vi spiego era come se la signora avesse chiamato se stessa e capite che è impossibile fare una cosa del genere dallo stesso cellulare io per esempio posso chiamare me stessa attraverso un altro cellulare ma chiamare al mio numero con lo stesso cellulare e parlare chiamando al mio numero con una persona diversa capite che questo è davvero impossibile quindi la chiamata era partita dal suo cellulare ed era come se lei avesse chiamato a se stessa ma in quel caso era come se avesse parlato con un'altra persona capite che non può essere e solo a questo punto comincio a pensare che suo nonno alimentato proprio dall'amore che provava per lei anche lì dove si trovava avesse o meglio fosse riuscito in qualche modo a manipolare il suo telefono e a riferirle quelle parole poi è davvero curioso il fatto che la donna quella stessa sera avrebbe tanto voluto parlare con questo sensitivo james burn non c'è riuscita perché il centralino era intasato poi arriva la chiamata di suo nonno ed è come se lei si fosse chiamata da sola insomma tutto questo è davvero curioso e la storia della signora wilson come anche le altre storie ci fanno pensare ad un legame tra questo mondo fisico e l'aldilà è come se queste persone come se le anime di queste persone riescano a buttare giù le barriere che ci dividono come nel caso del nonno della signora wilson che addirittura sarebbe riuscito a manipolare il telefono pur di riferire a questo messaggio a sua nipote io trovo queste storie davvero bellissime super emozionanti e come queste ce ne sono tante altre quindi se vi piace questa serie posso proporvela un po come ho fatto con le cose strane dette dai bambini e posso dedicare una playlist a parte proprio dedicata a questi racconti a queste storie insomma fatemi sapere che cosa ne pensate se volete ascoltare altri video di questo genere io per il momento vi mando un abbraccio un bacione e noi ci vediamo alla prossima